La provincia di Bari rende omaggio allo scienziato Umberto Veronesi, al quale ieri sera è stato consegnato il premio Provincia di Bari per il progresso e la cultura. Ce ne parla Cristina Ferrigni. La cultura rende un popolo facile da guidare, ma difficile da trascinare, facile da governare, ma impossibile a ridursi in schiavitù. Lo diceva due secoli e mezzo fa lo scrittore politico inglese Lord Henry Brogam, a cui il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, si è ispirato per aprire il discorso della cerimonia di consegna della prima edizione del premio Provincia di Bari per il progresso e la cultura, consegnato ad Umberto Veronesi. Un omaggio alla scienza, quello rassegnato dal presidente Schittulli, ad uno degli uomini che hanno posto a servizio dell'umanità il proprio sapere per sconfiggere il male. Sono molto lieto di essere qui, ospite del presidente Schittulli, perché sono un suo grande amico e un suo grande ammiratore. Cosa significa scienza e cosa significa cultura per lei? Scienza vuol dire conoscenza, innanzitutto, vuol dire allargare le nostre capacità intellettuali di capire quello che ci circonda. La scienza si rapporta con la società in maniera molto importante, con difficoltà, perché la società qualche volta ha delle riserve sul pensiero scientifico, però è essenziale che in futuro ci sia uno scambio continuo di informazioni e di partecipazione tra i due mondi della scienza e della società, perché questo è il futuro che ci aspetta. Il premio, che avrà cadenza annuale, si celebrerà ogni dicembre, è destinato alle personalità che si sono distinte in campo scientifico e culturale, con progetti rivolti a migliorare la qualità della vita. Ed è proprio questa la scommessa dell'amministrazione provinciale di Bari, che ha deciso di puntare sulla promozione del progresso scientifico e umano come occasione di sviluppo per il nostro territorio, così come ha dichiarato Francesco Schittulli. Portarlo qui a Bari è un onore per la città di Bari, ma anche per la provincia e per tutta la regione, e di tanto gli sono grato. Ospite a sorpresa della serata, anche Alberto Veronesi, figlio di Umberto Veronesi, direttore d'orchestra di fama internazionale, a cui il presidente Schittulli ha formalizzato l'invito a dirigere l'orchestra sinfonica della provincia di Bari. Si chiama Un Teatro per l'Abruzzo, la nuova iniziativa di solidarietà promossa dalla Fondazione Vincenzo Casillo, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, la Compagnia Teatrale dei Borgia e il contributo delle province di Bari, Barletta, Andrea e Trani. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per la realizzazione di un teatro tenda da 300 posti in piazza Darmi all'Aquila, allo scopo di rinvigorire la vita culturale nella città devastata dal sisma dello scorso 6 aprile. Il progetto prevede un tour itinerante nei principali teatri pugliesi dell'opera di Shakespeare, Troilo e Cressi, da diretta da Giampiero Borgia. L'opera debutterà il 20 dicembre in anteprima a Lucera, mentre il 21 ci sarà la prima nazionale al Teatro Piccini di Bari. E sarà inaugurato domani sera il Teatro Forma della Fondazione Orfeo Mazzitelli, fondatore di Telebari. La serata inaugurale sarà trasmessa in diretta su Telebari e Radio Bari. Ce ne parla Alessandra Bucci. Un regalo di Natale per tutti i baresi è il Teatro Forma della Fondazione Orfeo Mazzitelli, fondatore di Telebari, prima emittente televisiva privata del Mezzogiorno. Il nuovo contenitore culturale nasce dall'intuizione degli imprenditori Dante e Maria Teresa Mazzitelli, che hanno raccolto il testimone del padre, celebrando nelle grandi doti imprenditoriali e l'impegno sociale con una fondazione. E proprio il Teatro Forma è figlio della fondazione, destinato ad arricchire l'offerta culturale della nostra città, ma non solo. Sarà un palcoscenico per i giovani talenti locali con l'ambizione di una carriera artistica. Il Teatro Forma aprirà le porte alla città domani sera, con un'inaugurazione che trasmetteremo in diretta su Telebari e Radio Bari, a illustrarci i dettagli della serata il direttore artistico Michelangelo Busco. Domani è l'inaugurazione istituzionale, quella nella quale partecipa un po' tutta la città nella sua veste migliore. Proporremo un gospel per la chiusura della serata. La cosa interessante è che il protagonista della serata sarà la struttura del teatro. La struttura, lo vedete nelle immagini, è d'avanguardia. 300 posti, tecnologia innovativa ed un ampio palcoscenico capace di ospitare un'orchestra sinfonica. È stato progettato dall'architetto Mare Teresa Mazzitelli, un fiore all'occhiello per la nostra città a digiuno di cultura da troppi anni. Abbiamo affidato al teatro pubblico pugliese, alla loro esperienza, un po' la rassegna della prosa. Per quanto riguarda il cartellone del teatro, partirà con tre date di cabaret con dei nomi importantissimi a livello nazionale e poi ci sarà una serie di concerti, tra l'altro molti studiati ad hoc, con dei progetti esclusivi per il teatro forma. Passiamo al tempo previsto per le prossime ore. Nuvolosità diffuse, possibili precipitazioni, temperature con valori compresi tra 8 e 10 gradi, venti prevalentemente moderati da nord-ovest e mari mossi. Come sempre, notizie aggiornamenti ai nostri indirizzi www.telebari.it e radiobari.net. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e a più tardi. Grazie per averci seguito e a più tardi.